Don't you know that Rome wasn't built in a day, hey 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 Siamo da qui, dal 1870, anzi anche un po' prima, da Napoleone per capire l'evoluzione di una città unica attraverso i suoi piani regolatori spesso ignorati dalla febbre di Lizia cercando di capire il contesto culturale e architettonico dalla belle époque al fascismo quello che si è perso per sempre vive solo nel ricordo Si presentò come un grande sipario che si apriva e improvvisamente... Ah! Grandi progetti mai realizzati, purtroppo o per fortuna e i problemi che ancora oggi tormentano la città Vi aspetto sabato 2 marzo alle ore 16 al Teatro dei Dioscoli vicino al Quirinale stessa grande come Roma Santa e dissoluta Roma ma non perdona Roma te divora come un barracuda Roma nuda, nuda, nuda